E' stato per vedere Mambo Salentino, è stato tutto preparato da questa signorina, tutto tutto. E si chiama? Lucia, brava Lucia, vai! Dai un applauso più forte a queste signorine, non lo facciamo! Sono state bravissime, brava, brava, brava! Ti ho già presentato, sei stata bravissima! Chiara, Maria, Silvia, Maria Giovanna, Maria Elena, Maria Maria, Aurora Bravissime ragazzi, grazie a Carmen per aver aiutato le ragazze a prepararsi! Voi che siete più grandi, volete dire qualcosa? Sì? Vai! Per me questo campestino è stato molto importante e anche per tutti! Bravissima, potete andare, grazie ragazze, ci vediamo alla prossima! Adesso abbiamo cambiato un attimo la scaletta perché i bimbi più piccolini sono stanchi e anziché farli alla fine come era, li facciamo entrare adesso! Quindi li chiamiamo i bimbi più piccolini nel campo estivo di Marano Principato! Su ragazze! Ciao! Mi chiedo un applauso più forte per loro perché non volevano più salire i bimbi più piccolini! E abbiamo anche i bimbi! Vengono anche Sabrina e Federica con i bimbi! O Eugenia, chi delle due? Sabrina e Federica, facciamo due cerchi come abbiamo fatto nelle prove! No! petits bimbi! Sì! Vieni Garetto! Sì! Sì! Vieni Feder! Marina Valência! Geci! state l'attesa metti la mano qua perfetto ok datevi la mano Francesco e Samoi ok a posto vai non vi emozionate aiutateli cantate voi giro giro tondo gira il mondo gira la terra tutti giù per terra giro giro tondo con il mare a fondo tonda la terra a tutti giù per terra giro giro tondo l'angelo è biondo biondo è grano tutti ci seguiamo giro giro tondo ora in circondo come la faccia balla tutti giù per terra bravissimi bravi 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 e diciamo anche grazie e brava a Federica e Sabrina che hanno preparato i bimbi potete andare piano che ci sono i cavi allora adesso è il momento di un gruppo di giovanotti che assolutamente da tre mesi mi ripetono che loro non vogliono né cantare né ballare ma solo giocare a calcio con Bragento Coscarello questa sera cantano non sono riuscita a farli ballare ma li ho convinti a farli cantare facciamo salire sul palco i miei ragazzi vai vai Francesco vai i miei ragazzi Giovanni prego un applauso a questi ragazzi Mario Davide Francesco Giorgio e Nicolò vai ragazzi a tutti Per prendere il cuore per restare E sono un arrogante E non importa il creduto E tu un brazo mi a parte Non è importante Bando lentamente, oh-eh-oh Se senti lentamente, oh-eh-oh Con la faccia, il sole L'autormente, il sangriale Oh-eh-oh Bando lentamente, oh-eh-oh E non è possibile che la nottura E dunque sono pulito E non ti potrei dire te Ricordo che la con cui sono uscita Mi aveva detto uno segno tipo Dopo ho provato anche a farmi l'amica Ma sono finito per fare l'amica Che schifo? Questa è stata difficile, no? Ma sempre mi mocherò La festa è stato quello io E quando ti troverò Ero a noi vecchi, ma almeno a volte ti dirò Che? Conti con la faccia, io sento che ti amo Saluta tutti che adesso ce ne andiamo E queste strade la basta insieme a me La stessa cosa la tengo tutti e tre Ma va bene Ma va bene Per avermi morito La spiaggia e il mare Perché quando balli Si gira al locale Perché sei diventato A il casa è stato E per avermi ballato Vederti ballare È una musica di nascida È una musica di nascida È una musica di nascida E una musica di nascida Ma va bene Sì, sono il primo e il tuo rito, quando ne stiamo insieme siamo un palazzo che ho seguito. Non c'è un solito, non c'è un riso che voglia che hai di scappare, insieme dal lavoro, non ti mi sai. Ma è più profondo, non è il tempo, è più solo gente che balla, che balla, che balla. È più solo gente che balla, che balla, che balla. Perché l'acqua fisica da mi fa asciugare la bocca, anche se l'acqua è gelata, portami dove si tocca. Forse non saremo più, ma va bene così, finché ho la birra ghiacciata, hai due fiori dentro la borsa. Cosa importa te? Sono il primo rito, noi stiamo insieme siamo un palazzo che ho seguito. Bruccio il sole, un ufficio che voglia che hai di scappare, insieme dal lavoro, non ti mi sale. Ma è più profondo, non è il tempo, è più solo gente che balla, che balla, che balla. È più solo gente che balla, che balla, che balla. Bravissimi i miei ragazzi, perché loro sono tutti i miei ragazzi e non volevate nemmeno cantare. Allora, c'è uno di questi ragazzi che mi ha chiesto di parlare, perché vuole dire qualcosa. Davide. Vorrei ringraziare tutti qui del Campestivo per tutte le occasioni divertenti che ci hanno potuto dare. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Francesco, dai. Francesco è timido e non dirà mai nulla. Poi te lo scrive sul messaggio su WhatsApp, però quello che non dici a voi, già lo fa sempre. Io devo fare i complimenti alle mamme di questi ragazzi, perché sono bambini, però sono dei piccoli ometti. E voglio ringraziare ciascuna mamma, ma questa sera in particolar modo voglio ringraziare la mamma e il papà di Giovanni Arlotta. E loro sanno perché. Potete scendere. Bravi ragazzi. Adesso. Perfetto. Adesso viene un altro gruppo autodidatta. I ragazzi di Marano Marchesato. Vai ragazzi. Accompagnati dalla nostra Siria. Un applauso a questi ragazzi. Mi raccomando, con calma quello che dovete fare perché è una cosa affatto pericolosa. Questi ragazzi si sono preparati da soli. L'esibizione l'hanno fatta tutta da soli. Vai ragazzi. Vai ragazzi. Mi raccomando. Mi raccomando. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.